Ho fatto molto consiglio di venire con Giovanni Sassolini, che ho conosciuto a Sacerdò Garignano e che adesso è vicario della mia città di Fiesi. Io credo che il Badanno sia una terra straordinaria, un'attività da andare qui, piena di tanta gente che fa cose, di bene, aziende, imprese, lavoratori, pieno anche di quei valori che in qualche mondo oggi nel pasto non possono rappresentare, una terra cioè solida perché è solidaria.